E a proposito di premi, il 1962 vide nascere per volontà ed iniziativa dell'amministrazione comunale del tempo, premio Masaccio, estemporanea di pittura intitolata al figlio più illustre della città. La manifestazione ha risonanza nazionale e vede convergere a San Giovanni centinaia di pittori da ogni parte d'Italia. Stiamo qui vedendo una sintesi in miscelanea delle edizioni 63 e 64. Grazie. 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 Grazie.